E' durata poco più di un anno la tormentata storia d'amore tra il sindaco di Favara, Rosario Manganella, e il Partito Democratico. Il direttivo locale del partito di Renzi chiede ufficialmente le dimissioni dell'insegnante in pensione. Non è stato un rapporto facile tra il primo cittadino e il PD diretto a Favara dal segretario Carmelo Vitello. L'eccessiva autonomia amministrativa attuata dal sindaco aveva indotto lo stesso partito a dettare delle linee programmatiche che Manganella avrebbe però disatteso. A far traboccare la goccia paiono essere stati due fattori fondamentali a cui il PD affida la responsabilità all'insegnante in pensione, ovvero quelle dell'emergenza locale al cimitero e dell'innalzamento al massimo delle aliquote della Tasi. Manganella quindi è stato ufficialmente lasciato dal suo partito e la sezione cittadina del PD dice di essere pronta anche a chiedere l'intervento dei piani alti del partito affinché la tessera dell'ex capopopolo non venga più rinnovata. Netta è stata la presa di distanze del direttivo nei confronti del sindaco. Alla riunione svoltasi nei giorni scorsi erano presenti i 24 membri dei 40 complessivi. Tra loro ben 21 hanno detto sì alla rottura con Manganella, uno si è astenuto, due si sono detti contrari. In questo percorso con il sindaco Manganella ci siamo intravisti, abbiamo iniziato un percorso che ci ha visto alla stessura di un programma, che ci ha visto all'idea di immaginare un percorso di discontinuità totale negli atti e nella sostanza, richieste che sono state disattese e in questo senso le ultime vicende, quella della mancanza dei locoli, quella della Tasi, della difficoltà di immaginare una città che possa dialogare con le parti sociali, che si possa collegare con l'esperienza privata che ad oggi tanto sta facendo a Favara, con l'idea dell'associazionismo, delle collaborazioni. In questo senso di vuoto totale questo partito ha l'obbligo di dire con chiarezza che è meglio chiudere questa esperienza, non si può assolutamente sentire complice di un percorso che non ha prospettive, che non ha visione, per diversi motivi, le responsabilità sono tante e molteplici, sono quelle di un consiglio comunale, quelle dell'amministrazione, assolutamente che va avanti senza idee, senza un traguardo, senza una progettualità. In questo senso noi abbiamo la necessità di svincolarci, di svincolarci e iniziare o continuare o anche iniziare a parlare direttamente con la città e immaginare un percorso nuovo. Quindi il Partito Democratico da oggi diventa opposizione? Il Partito Democratico da oggi assolutamente è opposizione, ma ancora di più che opposizione ad oggi chiede appunto la chiusura di questa esperienza, proprio perché nella consapevolezza che giorno per giorno questa esperienza allontana di più il palazzo dalla città e la città dal palazzo e provoca danni. Ripeto, le difficoltà sono molteplici, anche le responsabilità. In questi mesi spesso siamo stati in silenzio non per la mancanza di problematico o di soluzione, abbiamo preferito dirle ai rispettivi interlocutori, ma proprio per cercare di non egcerci a quelli che fuori dal giro erano i più bravi, cercando di fare gli avvoltori di una situazione difficile. In questo contesto ad oggi, però, se queste soluzioni non si vogliono trovare, non si rendono necessari i metodi e l'azione di governo, bisogna fermarsi. Il PD in Consiglio Comunale è rappresentato da Calogero Castronovo e Gaetano Caramazza. Considerando quindi l'esplicita richiesta di dimissioni espresse dal partito e l'arrivo a breve tra i banchi di Aula Falcone e Borsellino della mozione di sfiducia a Manganella, tutto farebbe presupporre che ai 13 consiglieri firmatari si aggiungano anche i voti favorevoli dei consiglieri Castronovo e Caramazza. Ma in politica, specie a Favara, le previsioni si possono rivelare sbagliate, quindi è meglio attendere l'esito della votazione finale della sfiducia, anche perché i consiglieri Castronovo e Caramazza hanno sempre palesemente dimostrato un attaccamento al sindaco Manganella, nonostante il partito, negli ultimi tempi, abbia preso le distanze. In Consiglio Comunale voi siete presenti, a breve arriverà la mozione di sfiducia, come vi ponete? Ma, guardi, la mozione di sfiducia, credo che noi siamo già più avanti riguardo a una mozione di sfiducia, ad oggi siamo sfiduciati di questa azione, assolutamente al sindaco, al nostro consigliere comunale chiediamo di interrompere questa esperienza, appunto, e abbiamo sicuramente, siamo certi che preso atto di questo deliberato porteranno avanti le azioni conseguenziali. Chiaramente di questo ne prenderemo atto, siamo qui come partito a parlarne e riparlarne. E credo che sia importante per questa città iniziare a dire che la politica deve fare ordine. Il Partito Democratico è oggi uno dei pochi partiti ordinati e costituiti. In questo senso la politica ha la necessità di riprendere in mano le redini di un percorso e ogni singolo non può immaginare dei percorsi a sé. Altrimenti, assolutamente, questa città rimarrà ad essere ingovernata e rimarrà in balia di venti spesso tempestuosi. Tornando al divorzio tra il PD di Favara e il sindaco, quest'ultimo sembra trovarsi al municipio nella stessa condizione del naufrago Robinson Crusoe. Manganella come il personaggio letterario, quindi, per sconfiggere la solitudine politica e tirare avanti sino a fine legislatura, sarà costretto a cercare il suo venerdì. Alla fine del mandato manca ancora tanto e l'ex esponente delle PCI, poi DS, MPA, eletto sindaco in una lista di centrodestra, poi passato al megafono di Crocetta e infine al PD, a quale altro partito politico chiederà adesso aiuto? Si inventerà una nuova primavera fevarese? Di sicuro la farfalla è il suo simbolo. Vista la situazione di emergenza in cui verse la città di Favara e la tormentata storia politica di questa amministrazione comunale, il sindaco, anziché proseguire in questa regata solitaria che rischia seriamente il naufragio, farebbe meglio a dimettersi.